Era riuscito a sfuggire ad un agguato 22 anni fa, ma la stessa fortuna che lo accompagnò quel giorno, questa volta non vegliava su di lui. Filippo Marchi, gestore di una concessionaria di automobili usate di 48 anni, è morto ieri mattina intorno alle 7 nella campagna di Barra Franca, in provincia di Enna, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco mentre stava lavando l'auto davanti alla sua abitazione. Accasciatosi per terra in una pozza di sangue, l'uomo è stato finito con uno sparo dritto al volto, modalità che per gli investigatori ricondurrebbe ad un'esecuzione tipicamente mafiosa. In passato Marchi, allora disoccupato, stava viaggiando in auto con la moglie Maria Stelletta, quando sentì una pioggia di colpi d'arma da fuoco colpire la vettura sulla quale i due coniugi viaggiavano. In quell'episodio l'uomo ne uscì illeso, mentre la donna venne gravemente ferita. Qualche anno dopo il primo agguato, il 48enne venne imputato in un processo per omicidio con l'accusa di aver ucciso un imprenditore del settore Movimento Terra a Barra Franca. Il commerciante accusato dell'assassinio fu assolto in primo e in secondo grado con la procura che decise di non impugnare la sentenza. Quel delitto, dunque, rimase irrisolto. Marchi, tramite il suo legale, avviò un procedimento per ingiusta detenzione chiedendo un risarcimento al Ministero della Giustizia di oltre mezzo milione di euro. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della DDA di Caltanissetta, Santi Roberto Condorelli, che ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione dove gli esperti balistici e la scientifica si sono occupati dei rilievi.